non tornerai mai più nel tuo mondo mossa speciale cosa questo lo decido io no full counter non funziona niente contro di lui wilde funziona sempre rotolamento mi sono stufato questa è la storia di nanna su no tai zai la stagione 4 e non 5 netflix sai poi succede questo quello cosa forse rosso non lo so forse non dovrei tornare dopo tutto questo casino te ne esci così elisabeth è sempre nei guai quando idiota usciremo e salveremo le nostre amate facile no non avete capito un cazzo allora dormammo siamo venuti a patteggiare 6093 sconfitte su 6093 battaglie siamo fottuti vieni qui bel maiale ma che figo posso curare ho un'idea ancora qui sei venuto qui a perdere i tuoi poteri sono venuto qui a darti la mia infinita vitalità prova a prenderci cosa pensi di fare ecco la porta smettila di essere intelligente adesso ci penso io ma così non riuscirei a tornare non c'è altra scelta episodi buttati non siederò mai al tuo posto sei stato creato per farlo ho aspettato così tanto mild ma è solamente grazie al capitano sei ancora in vita ma che diavolo vestia magica tu questa è la mossa finale di wild così morirai non scappe fratello non hai bisogno di me ma dei tuoi amici io sono wild io tornerò nel mio corpo e tu tornerai da ok canterò la canzone di wild da ok così capitano ti ho preso vai a salvare gli altri qui ci penso io bastardo aspetta ma che è il mio braccio sembra che tu mi abbia sottovalutato nooo meliodas ah vuoi un occhi tornerà sicuramente ora devo fare una cosa non ha più forze eccomi qui ban io invece sto per rimorire questo lo decido io smettila se usi questo potere la tua immortalità non me ne frega nulla di essere mortale perché sarò con te elaine sei più piatta di quanto ricordassi